Bella ragazzoli, qui è Butinnovi ed eccoci qui tornati dopo le vacanze di Natale in questo nuovo video Oggi come video, dato che è parecchio tempo che non le porto, voglio riportare il tempo delle sponsorizzazioni Per sponsorizzare i 4 canali che si sono iscritti e hanno messo mi piace ai video delle sponsorizzazioni E niente, io dico di cominciare subito Vi do un piccolo spoiler che comunque per Natale ho ricevuto cosette per la Playstation molto carucce Che possono rendere migliore il mio gameplay e magari per voi vedere un po' una persona un po' più professionale nel suo lavoro Invece di cazzate, sì, partiamo a fare sponsorizzazioni Il primo canale da sponsorizzare è T1 AmatTV Lui, posso dirvi che è un mio amico, che ho giocato con lui veramente Quando c'era Call of Duty, MW2, Modern Warfare, ma proprio lasciamo perdere che è meglio Lui è passato, diciamo, da Playstation al PC Ed ora è stato uno dei più forti in Italia a giocare a Counter-Strike Ed ora si ritrova tra i più forti a giocare a Deathstone Che è un gioco di carte per chi non lo sapesse Non è molto facile, ho visto molti video, è veramente un macello Però sicuramente se ci giochi all'inizio ti sembrerà difficile Poi man mano col tempo migliorare sempre di più Però, da come ho potuto capire, lui è veramente uno dei migliori in Italia Nelle informazioni troviamo Ciao a tutti, mi presento, sono Federico, classe 94 Pluriregion player di Airstone ed ex pro player di Counter-Strike Con la passione, sì, per i giochi di casa Blizzard, ma anche per i videogiochi in generale Sul canale troverete principalmente Airstone Con i video incentrati su Stream, Highlight, Arena Ranked, Coaching e Analisi Deck Ma anche molto altro Come Overwatch, Rocket League e le future dattuarie esclusive per PlayStation 4 Se vi piace quello che vedete lasciate un'iscrizione A tutti quelli che lo faranno o l'hanno già fatto Beh, non mi resta che dirvi Welcome to the T1 Amatra TV Family E spero di aver letto bene perché non ho mai capito come si legge Questo è il canale YouTube ufficiale del canale di Twitch E qui trovate il link del canale di Twitch Perché lui è più incentrato a trasmettere su Twitch che su YouTube E fa, diciamo, sempre molte live, streaming e tutto quanto Comunque, io vi esorto ad iscrivervi a questo canale perché è molto professionale E passiamo al prossimo canale Il secondo canale che andrò a sponsorizzare oggi è quello di ProGamer99 Lui è un ragazzo che, come potete vedere, porta principalmente Proprio, lo vedete da voi, GTA E devo dire che è molto bravo Comunque è simpatico Mentre che, cioè, quando fai video è molto simpatico E niente, fa anche dei vlog Ha giocato alla tema di FIFA perché probabilmente non ha il gioco completo E niente ragazzi, comunque ha 522 iscritti Dategli una mano a crescere nel mondo di YouTube E andiamo al prossimo canale Il terzo canale da sponsorizzare oggi è quello di Il Gamer Medio Lui è un ragazzo che, come vedete, fa giochi tipo Wolfenstein Cioè, ossia proprio giochi... Wolfenstein è abbastanza vecchio Cioè, è abbastanza vecchio, fa due anni se non sbaglio Però, cioè, comunque ha la sua originalità Perché non è che porta, come magari tutti quanti FIFA, questi giochi così È molto originale, porta pure Bloodborne Che io non l'ho mai giocato e non lo vorrò mai giocare Perché se no le bestemmie partono E comunque è molto bravo Anche perché, cioè, se vedete Bloodborne l'ha portato veramente tante volte È un ragazzo che comunque ci tiene alle sue cose E migliora sempre di giorno in giorno Nelle informazioni troviamo che Salve ragazzi, in questo canale sarà basato Questo canale sarà basato sul gameplay Ed è stato realizzato giusto perché È una delle mie passioni di Sonic Games E quindi che male c'è a condividerlo con il mondo Mi diverto e spero di divertire pure voi Ciao ragazzuoli Mentre ragazzi, io come al solito Ha anche, come potete vedere, il link Di Facebook e di Twitter E vi consiglio di comunque iscrivervi a questo canale Perché è molto, molto bravo L'ultimo canale che andremo a sponsorizzare oggi È quello di Boom Cosmic Lui, da quando è uscito Call of Duty Porta principalmente giochi su quel gioco Che cosa ho detto? La mia mente è malata E come possiamo vedere Fa anche lui le sponsorizzazioni E fa anche dei bei tutorial Su come fare gli emblemi su Call of Duty Cioè, qui possiamo vedere L'emblema di YouTube L'hamburger E il leone, il cane fifone Leone, il cane fifone Cioè, la mia vita è basata su quel cartone animato Nelle informazioni possiamo leggere Canale di gameplay di intrattenimento Gameplay su varie parti a forme PS3, PC e telefono A gestire il canale ci sono solo io Tommy Iscrivetevi al canale Seguitemi per nuovi video E nuove divertenti avventure Per chi mi volesse iscrivere in privato Mi può mandare una richiesta su Skype Ossia Thomas Fabry Dai ragazzi, raggiungiamo il traguardo dei mille iscritti E guardate un po' ragazzi Se vedi sto vivendo a giornale In descrizione metti 10 milioni di iscritti So che ce la faremo Grandissimo Sempre divertendoci Il divertimento è scontato Bene ragazzi Il video per oggi può finire qua Mamma mia Sono raffreddato fino alla morte Domani al 90% uscire al video su Call of Duty Di nuovo Finalmente Alleluia E spero tanto che voi abbiate passato delle buone feste Anche se non è finita Perché ora arriva la festa più bella Il capodanno ci ubriachiamo come le merdi Comunque dopo tutte queste stronzate Noi se ne vediamo al prossimo video E vi mando come al solito Un bacione Un abbracione E scia Un abbracione Un abbracione Un abbracione Un abbracione